Buonasera a tutti, siamo in orario, sono le 9 e un minuto, quindi direi di cominciare questo incontro che sono veramente onorato di poter presentare e introdurre un parterre di questo livello. Alla mia sinistra il professor Boniolo che è la cattedra di filosofia della scienza presso l'università di Ferrara e una quantità di rapporti internazionali autore di numerose pubblicazioni, sicuramente un'autorità nel mondo della filosofia della scienza e oltre. Alla mia destra il mio lavoro è assolutamente non semplice di più perché ovviamente chi non conosce il professor Garattini, ho troppo da dire, tanto da dire per cui staremo qui tutta la serata oppure semplicemente presentarlo. Allora l'argomento di stasera è un argomento molto sentito, è un argomento estremamente di attualità, lo è sempre stato, la sanità è sempre stato un argomento di attualità. Uscendo dalla pandemia e di fronte alle sfide che ci attendano anche rispetto ad un cambiamento che è in parte tecnologico ma è in parte umano nel mondo della sanità e della medicina, questo incontro è sicuramente molto ben pensato e posizionato. Io partirei da un report recente, non recentissimo ma comunque sufficientemente recente per poter utilizzare questo tema come introduzione al problema. Da un lato noi abbiamo un sistema sanitario che è rimasto forse l'ultimo al mondo ad essere universale. Adesso chiedo anche agli autorevoli colleghi di correggermi ma a mia memoria non c'è nessun altro sistema che sia veramente universale come quello italiano perché non lo è più nemmeno quello della Gran Bretagna, non lo sono più i sistemi europei, non lo sono mai stati i sistemi americani e di altri paesi. Quindi da un lato abbiamo l'enorme fortuna e chi ha vissuto in un paese in cui non c'è un sistema sanitario universale come il nostro sa benissimo di cosa sto parlando. Il sistema sanitario degli Stati Uniti che fanno sempre un po' d'affaro per il mondo in realtà è il sistema sanitario più costoso e con gli outcome peggiori che abbiamo nel mondo occidentale. Quindi non è sicuramente il modello a cui ispirarsi. Il nostro modello però soffre, il nostro modello sta soffrendo moltissimo e questo è il diciassettesimo report fatto dall'università di Tor Vergata, risale alla fine dell'anno scorso, è il rapporto Crea Sanità. Nel rapporto sono indicati una serie di pregi del nostro sistema, però sono elencati anche una serie di problemi che cominciano a essere sempre più rilevanti. Il Friuli Venezia Giulia è sempre stato un'isola molto felice sotto tanti punti di vista, non ultimo quello della sanità. Il Friuli Venezia Giulia ha sempre goduto di un sistema sanitario molto efficiente, molto efficace. Il rapporto dice quasi 800 mila famiglie in Italia rinunciano alle spese sanitarie. Abbiamo problemi che cominciano a essere evidenti in termini di liste d'attesa, in termini di difficoltà d'accesso a determinate cure, dall'altra parte le cure stanno diventando sempre più efficaci ma spesso sempre più costose. Quindi io chiederei ai due ospiti che abbiamo con noi quali sono e come vedono la situazione attuale e soprattutto quale potrebbe essere la prospettiva. Non chiedo delle soluzioni perché sarebbe eccessivo chiedere delle soluzioni, però sicuramente delle opinioni molto informate e molto centrate sulla conoscenza anche pratica dei problemi, quello sicuramente riusciremo a discuterlo. Chiederei prima al professor Bonioli di cominciare la sessione di stasera, poi abbiamo Dulcis in fondo al professor Garattini. Innanzitutto ringrazio gli organizzatori per avermi invitato. È anche un piacere discutere con Garattini ed avere Curcio come moderatore. Il problema è da un lato estremamente serio e dall'altro però bisogna anche pensare che noi siamo estremamente fortunati, come diceva. Noi abbiamo un sistema sanitario nazionale che nessuno ha, nel senso che se tu vai al pronto soccorso, di qualunque colore tu abbia la pelle, che tu sia cittadino italiano, che tu non sia cittadino italiano, di qualunque professione religiosa tu abbia, tu vieni curato. Ed anche vi è la possibilità di accedere a certi farmaci in maniera gratuita. Il problema grosso è che forse non è più sostenibile un sistema sanitario di questo genere per una serie di motivi che vi sono. Il fatto che vi siano 800 famiglie che rinunciano alle spese sanitarie è un grossissimo problema, perché rinunciare alle spese sanitarie significa acuire molte volte le patologie che si hanno, significa non avere la possibilità di agire tempestivamente. E qui si entra in un settore che è diventato ormai ben noto agli utenti dal 1990 circa, quando un epidemiologo inglese, che si chiamava Marmot, ha fatto un report su quelli che si chiamano i determinanti sociali della malattia, mostrando che coloro che hanno meno denaro hanno meno possibilità di accedere alle spese sanitarie, ma hanno anche la possibilità di accedere a uno stile di vita che fa sì che la loro qualità di vita sia peggiore. E questo è un grossissimo problema. Ormai sappiamo che esistono dei determinanti sociali della malattia. Determinanti sociali della malattia che non hanno soltanto a che fare con un problema di capacità economica di affrontare delle spese sanitarie, ma che hanno a che fare anche con l'ambiente dove tu vivi, con lo stile di vita che tu vivi. Nel 2014 un italiano ha fatto un report sempre legato ai determinanti sociali, dove questa volta i determinanti sociali erano legati alla malattia mentale. Ed anche la malattia mentale è fortemente influenzata dall'ambiente in cui vivi, dall'ambiente sociale, dall'ambiente in senso stretto, dalle capacità economiche. Ma si sta sempre più discutendo di un altro fatto che è diventato fondamentale durante il periodo del no-vax, durante il periodo della pandemia. E cioè ci sono anche i determinanti epistemici della malattia. Che cosa sono i determinanti epistemici della malattia? Sono quei fattori conoscitivi che, se tu non hai, ti inducono a fare delle scelte sanitarie sbagliate. Era di moda andare in giro con il cartello, io sono il medico di me stesso. Ora, se tu sei effettivamente laureato in medicina, se tu hai la fortuna di avere la patologia legata alla specializzazione che tu hai, tu puoi anche essere il medico di te stesso. Ma questo non funziona in generale. Tu non hai la capacità di affrontare tutte quante le specialità. E soprattutto se tu non hai il medico, non hai la capacità di affrontare la diagnosi di ciò che tu hai ed anche l'aspetto terapeutico. Chi decide sulla mia salute? È ovvio che il paziente dovrebbe avere, soprattutto da un decennio, anche un ventennio, la capacità di essere autonomo. cioè di scegliere la particolare terapia che può essere discussa con il medico, che ha la possibilità di scegliere anche dove andare a farsi curare. Però tutto quanto questo comporta che il paziente potenziale o il paziente attuale abbia delle capacità conoscitive. E questo qua molte volte non viene sottolineato. Viene sottolineato il determinante sociale della malattia. Viene sottolineato il determinante economico, il determinante ambientale, il determinante legato agli stili di vita. Ma viene sottovalutato un fatto molto importante, e cioè il determinante conoscitivo. E cioè chi sa riesce ad avere una qualità della vita migliore e anche una qualità della morte migliore. E chi non sa, molte volte riesce ad avere una qualità della vita peggiore per sé, ma anche per i propri cari. C'è stato quel caso nelle regioni Marche dove mamma e papà che avevano un bimbo di tre anni che si chiamava Francesco, e questo bimbo aveva un'ottite. Mamma e papà lo hanno portato dal medico omeopata perché loro si curavano con la medicina omeopatica. Il medico gli ha dato delle medicine omeopatiche. il bimbo è morto. Il medico è stato incolpato, gli ha dato cinque anni di galera e i genitori giustamente gli ha dato tre anni di galera. C'è stata una bimba di 17 anni con leucemia nel Veneto. Mamma e papà seguace di un metodo di uno pseudo medico tedesco che si chiamava Hammer. L'hanno curato in quel modo. la bimba è morta, mamma e papà sono stati accusati di omicidio. E questa è una cosa fondamentale, il conoscere. Chiudo soltanto ricordandovi questo. Alla fine del 1995-96 la World Bank dice che noi viviamo nella società della conoscenza e l'UNESCO poi lo ribadisce. La società della conoscenza è quella che è capace di recuperare informazione. L'informazione non è fake news. L'informazione è notizia vera. Di recuperare informazione, di elaborare informazione per migliorare la propria qualità della vita. E l'UNESCO riconosce che esiste un knowledge divide, una divisione conoscitiva tra chi sa e chi non sa. E questo è un problema, perché la divisione conoscitiva non è soltanto tra i paesi del cosiddetto terzo mondo e il nostro, ma taglia trasversalmente qualunque società. Anche la nostra società italiana, molte volte anche le università, anche i miei colleghi docenti, anche all'interno delle famiglie. E chi sa di più, perché è fondamentale adesso avere anche l'informazione corretta per potersi curare, e chi sa di più riesce ad avere una qualità della vita e della morte migliore rispetto a coloro che sanno di meno. Il grosso problema in un paese democratico e liberale come l'Italia non è le scelte che il singolo individuo fa, ma sono le scelte che l'individuo fa per i propri figli. le scelte che un singolo individuo fa per i propri genitori, le scelte che un individuo fa per i propri concittadini quando va a votare. Se tu voti e va al governo uno che non sa, tu avrai una sanità peggiore. Quindi il grosso problema, le 800 famiglie che rinunciano, rinunciano perché ci sono dei determinanti sociali che fanno sì che loro abbiano, che siano forzati a rifarlo. Però c'è anche il fatto che molte volte non si ha la conoscenza corretta per poter seguire, per poter andare in certi ospedali, per poter andare a farsi curare per accettare, ad esempio, l'autorità del medico. Adesso viene l'autorità del medico, come tutte le autorità vengono messe sotto forte dubbio, perché ognuno pensa di saperne abbastanza, perché esistono i social dove ognuno può parlare, eccetera, eccetera. Ma questo è un grossissimo problema. Il problema socio-economico forse lo risolviamo a livello politico. Se avessimo le capacità politiche di riuscire a sanare la situazione terribile in cui noi siamo adesso, liste d'attesa molto lunghe, medici di base che non ci sono, specialisti di molte discipline che non ci sono, però esiste anche un problema collaterale e che è un problema fondamentale e che è il problema conoscitivo, che è fondamentale tanto quanto il problema sociale. Se tu hai soldi sicuramente vivi meglio. In Stati Uniti d'America, come si diceva prima, ci sono gli ospedali per ricchi e gli ospedali per poveri. Ci sono gli ospedali dove ti curano bene e gli ospedali dove ti curano con quello che hanno. Ci sono degli ospedali fortemente attrezzati e gli ospedali meno attrezzati. Ma la stessa cosa succede anche in Italia. In Italia, fino a poco tempo fa e continua ad esserci, ogni sindaco voleva avere un ospedale, un aeroporto e una università, il che non è possibile. Non è possibile con la medicina di adesso, che è una medicina fortemente tecnologizzata. È una medicina che necessita di apparati estremamente costosi per poterti curare al meglio. E ci sono certi ospedali che ce l'hanno e ci sono certi ospedali che non possono averlo. Quindi vi è anche da ripensare la struttura dei servizi medici all'interno del territorio. Non esiste più soltanto il problema della medicina gestita da privati e della medicina gestita del pubblico, ma esiste anche una pletora di piccoli ospedali dove forse non è consigliabile andare a farsi curare. Vi porto e poi taccio l'esperienza di un paesino vicino a dove io abito. Io abito a Rovigo, ridente cittadina del Veneto. Vi è un paesino dove il sindaco ha voluto un centro nascite. Nascono due bambini all'anno. Se tu sei di turno nei giorni sbagliati, tu non avevi nessuna nascita. Provate a pensare in Mangiagalli, che è la clinica milanese, il numero di parti che ci sono ogni anno e il numero di complicazioni che riescono a risolvere, perché hanno anche l'expertise. Provate a pensare in questa cittadina del Veneto dove i cittadini hanno voluto avere un centro nascite. Se c'è una complicazione, che cosa succede? Questo è un determinante sociale della malattia, ma è anche un determinante conoscitivo della malattia. Sono stati i cittadini che l'hanno voluto. Dei cittadini che non hanno conoscenza di che cosa significa avere un ospedale ben attrezzato, magari a 40 chilometri. Fai nascere il bimbo a 40 chilometri invece di farlo nascere sotto casa. Molto probabilmente a 40 chilometri hanno anche la capacità di affrontare quelle complicazioni che nell'ospedale sotto casa non hanno. E così vale per la cardiologia, e così vale per la gastroenterologia, e così vale per l'oncologia, e così vale per qualunque disciplina. Quindi, assieme a quello che diceva il professor Curcio, e cioè che non vi sono molte volte da parte delle famiglie delle capacità economiche per affrontare certe spese, per bypassare le liste d'attesa, perché se ho una lista d'attesa a cinque mesi, ma necessito di un esame subito, e quell'esame subito mi costa 300 euro, che cosa faccio? E magari quei 300 euro io non li ho. Rinuncio, aspetto, aspetto i sei mesi. Accanto a questo esiste quel profondo e molte volte sconosciuto situazione del fatto che molte volte non si conosce. E non conoscendo si fanno delle scelte sanitarie, di politica sanitaria, che sono anche sballate. Bene, grazie, professor Boniolo, perché ha introdotto una serie di elementi di enorme interesse. Il tema dell'istruzione e della cultura rispetto alla sanità è un tema che la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha ripreso, inserendo nella definizione stessa di malattia il tema del livello di istruzione e una serie di altri elementi. Abbiamo introdotto molto opportunamente il tema del rapporto con il territorio, fra le strutture di altissima specializzazione del territorio, e abbiamo introdotto alcuni elementi molto importanti. L'Italia, tra i paesi europei, è il paese che spende meno in sanità, nella media dei paesi europei. è anche uno dei paesi che ha il tasso di ospedalizzazione più basso, però stiamo perdendo medici, stiamo perdendo competenze, stiamo un po' perdendo la guida di determinati approcci. Quindi, professor Garattini, ne abbiamo parlato a lungo anche a Erice del problema. Prego. Buonasera a tutti e buonasera a tutti. Grazie per questo gentile invito. Sono molto lieto di essere con voi e di poter discutere di problemi che evidentemente ci interessano molto da vicino, perché la salute è il bene fondamentale che abbiamo e quindi dobbiamo conservarcelo. Io vorrei, prima di tutto, difendere il nostro servizio sanitario nazionale, perché in realtà, nonostante tutto quello che possiamo fare, che dobbiamo fare per migliorarlo, è un bene straordinario e è un bene che noi dobbiamo cercare di conservare e di conservarlo soprattutto per quelli che vengono dopo di noi. In realtà, molti dei problemi rispetto alla valutazione del servizio sanitario nazionale nascono dal fatto che la maggior parte dei presenti in aula non ha visto il periodo precedente, perché il servizio sanitario nazionale è cominciato solo nel 1978, quindi tutti coloro che hanno meno di 70-75 anni non hanno vissuto cosa voleva dire non avere un servizio sanitario nazionale. Io, siccome ho un lungo chilometraggio, vi posso dire che la situazione era molto diversa. Al tempo c'erano le cosiddette casse mutue delle malattie, che però avevano un loro limite, davano un certo numero di risorse a disposizione e quando erano finite, ognuno doveva arranciarsi. Quindi era una situazione molto diversa da quella odierna, perché allora chi aveva soldi si poteva curare. Io posso dire come considerazione personale che, avendo avuto problemi di salute in famiglia, mio padre ha dovuto prendere un secondo lavoro per pagare i medici, i farmaci e tutto quello che serviva, perché le mutue pagavano solo per un determinato periodo di tempo. Quindi, diciamo, cerchiamo di salvare il Servizio Sanitario Nazionale, cerchiamo di migliorarlo. Cosa è oggi, secondo me, quello che irrita molto la gente? E soprattutto quei milioni di persone che, perché se diciamo 800.000 famiglie, diciamo che in realtà sono molto milioni di persone. Ci sono delle statistiche che dicono che ci sono 5 milioni di italiani che non arrivano alla fine del mese. Quello che irrita molta gente è certamente il fatto delle liste d'attesa, che molto spesso sono di molti mesi. E in qualche caso adesso il Friuli è sempre stata un'area molto privilegiata, ma se guardiamo in generale la situazione italiana, ci sono anche delle regioni in cui le liste d'attesa sono bloccate. Non te la danno perché non c'è la possibilità di dartela. Però quello che dà fastidio alla gente è che però c'è sempre qualcuno che ti dice però se lei vuol pagare le stesse persone, le stesse strutture, le stesse apparecchiature sono disponibili la settimana dopo. Questa è una profonda ingiustizia che dobbiamo cercare di sistemare, perché anche se non risolverà il problema delle liste d'attesa che è molto più complesso, però questo è contro la Costituzione, perché la nostra Costituzione nell'articolo 32 dice che tutti gli italiani hanno lo stesso diritto alla salute. Ma qui non è vero, perché chi ha soldi anche con una lunga lista d'attesa riesce ad avere quello che serve. E questo dipende da molti fattori. Uno dei fattori, l'ha accennato prima il professor Bognolo, cioè noi siamo il paese europeo che spende di meno. In generale si spende intorno all'8% del cosiddetto PIL, cioè del prodotto interno lordo. Di tutto quello che è il fatturato di un paese, l'8% va a finire nella media europea per la salute. Da noi il 6% è qualcosa, ma con l'aumento del PIL si calcola che nel 2025 sarà soltanto del 6,1%. Quindi ci dobbiamo chiedere come mai spendiamo così poco. E una parte della risposta è molto semplice, perché i nostri medici, i nostri infermieri, tutti quelli che lavorano in sanità, sono mal pagati. Cioè noi abbiamo una situazione per cui almeno il 30% dei salari è minore, cioè abbiamo dei salari per i nostri globalmente minore del 30%. Quindi se adeguassimo i salari di tutti i nostri sanitari, certamente non potremmo farcela con il 6,1% del PIL. Anche noi saliremmo considerevolmente e questa è una cosa secondo me molto importante che dobbiamo in qualche modo rivendicare. I nostri politici devono mettere a disposizione più soldi per il Servizio Sanitario Nazionale se vogliamo che funzioni. Perché noi siamo nella situazione di perdere molti dei nostri medici. Non è vero che abbiamo pochi medici. I nostri medici, rispetto a mille abitanti, sono 4,1% che è meglio della media europea. Però abbiamo una grande carenza di infermieri. Si calcola che abbiamo circa 85.000 infermieri in meno rispetto a quelli di cui avremmo necessità. E questo è un problema molto importante. Perché? Perché la maggior parte degli infermieri se ne va da altre parti. C'è una grande migrazione, come c'è migrazione di medici, ma soprattutto quello che sta succedendo è una cosa anomala a cui bisognerebbe mettere rimedio. Cioè molti dei medici di medicina ospedaliera o di medicina generale si costituiscono in cooperative e poi mettono a disposizione i medici per i posti che mancano. Però li mettono a disposizione a un prezzo che è molto elevato, 1200 euro per una notte, 120-150 euro all'ora per il pronto soccorso. E questo è un grande danno perché in realtà spendiamo più soldi e questo dipende proprio dal fatto della carenza dei salari. Perché in questo modo i medici che fanno parte di queste cooperative in dieci giorni hanno lo stipendio che prenderebbero in un mese di lavoro. Secondo me questo è un problema rilevante che riguarda tutti noi, perché la salute interessa tutti noi. E noi abbiamo la possibilità di spingere i nostri politici a prendere decisioni adeguate ai problemi di cui abbiamo bisogno. Molti dicono che bisogna aumentare il numero dei medici. Questo, ripeto, non è vero. Dobbiamo organizzare meglio la situazione perché, come mi pare si accennasse, noi abbiamo tanti piccoli ospedali dove la produttività è molto bassa. Pensate che si calcola che per realizzare 30.000 interventi di cardiochirurgia, in Francia si impiega due terzi del personale di quello che impieghiamo noi. Ma questo non perché siano più bravi, semplicemente perché hanno concentrato tutti gli interventi complessi, gli interventi importanti, in pochi ospedali. E hanno chiuso, se io penso alla mia città che è Bergamo, Noi abbiamo un grande ospedale dove c'è una buona cardiochirurgia e a tre chilometri di distanza c'è un altro ospedale dove c'è un'altra cardiochirurgia, che naturalmente lavora molto di meno del grande ospedale. Ma questo impiega un certo numero di medici e di infermieri perché non si può fare un intervento cardiochirurgico senza avere un adeguato numero di persone. Però quanti casi fanno in una giornata? Quanti ne fanno in un anno? Abbiamo punti nascita che hanno 250 neonati all'anno. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che bisogna avere almeno mille nascite all'anno per avere dei punti nascita efficienti. Perché i punti nascita sono importanti perché ogni tanto nelle nascite capita qualcosa di anormale. Quelli che ne fanno tante vedono molte anormalità e quindi sono pronti a intervenire. Quelli che ne fanno poche ne vedono molto poche di anormalità e quindi sono poco efficienti. Cioè di solito quando si chiude un piccolo ospedale col sindaco in testa tutti protestano. Dovremmo invece applaudire perché i piccoli ospedali tolgono risorse e non danno produttività adeguata. Bisogna certo fare altre cose. Bisogna aumentare i trasporti, migliorare i trasporti. Ma questo si può fare non solo per gli ospedali ma anche per tante altre ragioni. Io mi fermerai qui per dare la possibilità di cominciare. Grazie professor Garattini perché ha introdotto ancora altri temi di enorme rilevanza. Vi do soltanto un paio di dati puntuali. Quando dicevamo che l'Italia è tra i paesi europei avanzati che spende di meno, il dato è che l'Italia spende 2690 euro pro capite rispetto alla media dei paesi che sono entrati nell'Unione Europea prima del 1995 che è di 4.196 euro pro capite. Quindi con una differenza inferiore di quasi il 36% che è un dato sul quale bisognerebbe riflettere. Peraltro il livello del nostro sistema sanitario è tale per cui poi dopo alla fine il livello dell'outcome invece è mediamente molto buono. Abbiamo una situazione a macchia di leopardo, sappiamo bene tutti che l'Italia non ha un sistema sanitario nazionale davvero, ha 20 sistemi sanitari regionali e provinciali perché poi arriviamo al paradosso del sistema sanitario della provincia di Trento e della provincia di Bolzano che sono separati. Quindi arriviamo a 20 diverse tipologie di sistema sanitario con organizzazioni, approcci, modelli che sono completamente diversi. Secondo il report di cui vi sto parlando il problema che viene percepito come il problema principale nel sistema sanitario italiano è quello dell'organizzazione che in parte rispecchia quello che stavano dicendo sia il professor Bonioli che il professor Garattini rispetto alla parcellizzazione dell'offerta e non è soltanto un tema di spreco economico quello di moltiplicare le strutture soprattutto quelle di altissima specializzazione come ha accennato il professor Garattini e soprattutto un problema di qualità perché in medicina il numero delle prestazioni che vengono erogate dalla singola struttura, dal singolo medico è direttamente collegato con la qualità della prestazione stessa. Un ospedale dove si fanno due nascite l'anno avrà probabilmente il 50% di mortalità alla fine dell'anno perché non c'è l'esperienza, non c'è modo di gestire una qualsiasi situazione di emergenza e non è soltanto il responsabile del parto ad avere quel problema, è tutta la filiera che ha il problema perché poi sono gli infermieri che supportano le attività che non hanno l'esperienza necessaria è il laboratorio che non ha l'esperienza necessaria, è il radiologo che non ha l'esperienza necessaria è un sistema che non ha l'esperienza necessaria. Quindi è un tema anche se volete etico ma è anche un problema economico più generale. Io ci tengo e anche su questo chiedo il conforto dei colleghi io quando leggo, quando ho cominciato a leggere questo report che dice la spesa sanitaria ecco io contesto proprio la terminologia di spesa sanitaria perché quella in sanità non è spesa secondo me è investimento. Anche se lo vogliamo vedere dal punto di vista dell'economista andiamo proprio su un terreno, passatemi la parola e perdonatemi gli economisti e chi si occupa di finanza mi perdonerà, becero del danaro rispetto alla sanità, curare bene le persone significa aumentare il PIL significa migliorare le prospettive economiche del paese, non solo quelle sanitarie perché la persona curata lavora meglio, lavora di più, il PIL migliora, migliora tutto il sistema io nel passato ho sentito critiche e lo abbiamo detto prima, il nostro è un sistema universale chiunque di qualsiasi colore, razza, religione va in un pronto soccorso viene curato anche su questo io ho sentito alcune critiche non voglio entrare in nessun tema che sia diverso da quello tecnico sanitario quello che vi posso dire è quando una persona è malata quella malattia se non viene curata e non viene curata bene non va via non curare una persona che viene in pronto soccorso perché non ha il permesso di soggiorno oppure perché non ha i soldi per pagare non è un danno solo alla persona è un danno all'intera società perché quella persona resterà malata quello che succederà è che costerà di più quando il problema verrà affrontato in un secondo momento quindi curare bene significa anche curare prima e qui veniamo al tema del territorio scusate ma questo è un tema che a me sta molto a cuore il rapporto del cittadino con la sanità comincia a casa non comincia nell'ospedale di alta specializzazione noi tutti speriamo che il cittadino non debba arrivare all'ospedale di alta specializzazione quando il cittadino arriva all'ospedale di alta specializzazione vuol dire che qualche cosa molto probabilmente non ha funzionato perché vi dicevo prima negli Stati Uniti hanno la spesa più alta e l'outcome peggiore perché gli Stati Uniti lavorano fondamentalmente sull'acuto non fanno prevenzione, non fanno medicina territoriale questo significa che i costi sono altissimi e necessariamente l'outcome è peggiore quindi vorrei un commento anche su questi elementi ma io penso che una delle obiezioni che fanno i politici è quella di dire vabbè ma voi mi lamentate tanto che non ci sono soldi che non si fa questo, che non si fa quello però noi siamo la popolazione più longeva di tutto il mondo perché la nostra popolazione vive a una attesa di vita alla nascita che è di quasi 82 anni per il maschio e di più di 85 anni per la femmina quindi siamo pari ai migliori paesi del mondo però questo è un dato parziale perché quello che a noi interessa non è la durata di vita è la durata di vita sana allora se andiamo a guardare la durata di vita sana della popolazione italiana scendiamo al quindicesimo posto questo ci deve far pensare cioè come mai scendiamo così in basso come mai abbiamo tanti anni si calcola almeno una decina di anni per i maschi e 12 anni per le femmine in cui la qualità di vita è brutta perché avere delle malattie certamente non è una buona qualità di vita ecco questo ci porta un po' al tema di chi decide la mia salute e qui ci sono tante risposte ma una risposta è sono io sono io che decide la mia salute perché la medicina e quindi anche noi ci siamo soffermati concentrati, polarizzati sulla terapia che è una cosa giusta cioè non c'è dubbio che abbiamo fatto molti passi avanti malattie, sintomi che prima non si curavano adesso si possono curare c'è certamente un miglioramento dal punto di vista generale però ci siamo dimenticati di una parola che è stata pronunciata prima che si chiama prevenzione prevenzione vuol dire molte cose vuol dire per esempio che la maggior parte delle malattie sono evitabili non è che piovano dal cielo siamo noi spesso che ce le auto infliggiamo e poi ce ne lamentiamo perché arrivano pensate che noi spendiamo quasi il 70% per le malattie croniche eppure il 50% delle malattie croniche è evitabile perché il diabete di tipo 2 ci sono 3 milioni e mezzo di italiani che hanno un diabete di tipo 2 è evitabile è una malattia evitabile da cosa dipende? dipende da molti fattori che possiamo evitare perché dipende dal sovrappeso dall'obesità dipende dalla mancanza di movimento dipende da un'alimentazione scorretta sono tre elementi molto semplici che determinano 3 milioni e mezzo pensiamo a tutte le condizioni in cui abbiamo insufficienza cardiaca in cui abbiamo insufficienza renale in cui dobbiamo ricorrere alla dialisi sono in molti casi dipendenti dalle nostre abitudini di vita quindi questo è molto importante da ricordare pensate che quasi il 50% dei tumori è evitabile e muoiono ogni anno in Italia 180.000 persone di tumore pensate cosa potremmo fare con la prevenzione e la prevenzione magari spendo qualche parola perché tutti sappiamo che cosa dobbiamo fare però poi non lo facciamo e quindi è bene ricordarlo noi abbiamo ancora oggi 12 milioni di fumatori e abbiamo la triste condizione di vedere ragazzi e ragazze di 12-13 anni che cominciano a fumare perché il periodo dell'adolescenza è diminuito prima era di 15-16 anni adesso è di 12 tant'è vero che i 12 milioni di fumatori si calcono a partire dai 15 anni in su quindi ma pensate che uno ritiene che il fumo sia dovuto sia poi un fattore importante per il tumore del polmone beh dovete sapere che ci sono 28 malattie che dipendono dal fumo 28 malattie alcune delle quali alcune delle quali neanche ci pensiamo l'artrite reumatoide che da molti fastidi dipende dal fumo un fattore di rischio nel fumo l'infarto cardiaco l'ictus cerebrale dipendono dal fumo l'alcol è cancerogeno con buona pace di quelli che vendono il vino ma l'alcol è cancerogeno e tenete presente che la somma di fumo e di alcol se diamo il valore di uno come cancerogeni a ciascuno di questi elementi se li mettiamo insieme diventa un fattore di 6 quindi si moltiplica c'è un grande sinergismo ecco ho citato solo due degli aspetti potremmo citare i danni che sono indotti dal peso corporeo che dipende molto dall'alimentazione dobbiamo tenere presente che l'alimentazione ha due caratteristiche fondamentali che dobbiamo osservare che sono la varietà e la moderazione la varietà perché abbiamo bisogno di avere di cambiare il cibo durante i vari giorni per avere tutti i micro e macro nutrienti che sono importanti per il nostro organismo però oggi c'è un'altra ragione che è rappresentata dal fatto che i cibi sono inquinati e quindi non dobbiamo accumulare lo stesso contaminante se noi abbiamo la varietà abbiamo contaminanti ma ne abbiamo pochi di ognuno invece di averne di accumulare poi delle concentrazioni che diventano dannose ma poi c'è la moderazione vuol dire che dobbiamo mangiare un po' di meno di quello che sarebbe necessario quello che dicevano i nostri vecchi dicevano bisogna alzarsi da tavola con un po' di fame ma allora lo dicevano a scopo consolatorio perché c'era poco da mangiare adesso lo dobbiamo dire a maggior ragione perché i frigoriferi sono pieni e poi c'è l'esercizio fisico questo è un altro punto su cui vorrei intrattenervi perché tutti pensano che l'esercizio fisico faccia bene alla circolazione faccia bene al cuore è verissimo bisogna sapere che non c'è bisogno di una gran quantità di esercizio fisico i dati che abbiamo a disposizione ci dicono che 30-40 minuti al giorno di esercizio fisico sono più che sufficienti aumentare l'esercizio fisico non comporta grandi vantaggi anzi qualche volta comporta degli svantaggi quindi però deve essere un esercizio fisico che ci fa fare fatica e quello che va sottolineato è che l'esercizio fisico è molto importante per il cervello perché perché con l'esercizio fisico si liberano dalle sostanze dalle nostre arterie che sono in grado di sciogliere i piccoli trombi che si formano correntemente nelle nostre capillari anche dell'encefalo e sono quelli che influenzano la salute dei nostri neuroni quindi fare esercizio fisico vuol dire avere più accesso di ossigeno di sostanze diciamo nutritive per i nostri neuroni quindi esercizio fisico aiuta a salvare i nostri neuroni e ne abbiamo bisogno perché poi in ogni caso con il tempo li perdiamo e poi c'è anche tutto il problema dei rapporti sociali sono un altro fattore molto importante è un fattore che ci aiuta molto perché avere rapporti essere interessati a tante cose andare al cinema andare a teatro seguire le mostre andare a visitare veder paesaggi è tutto un input di dati nel nostro cervello che mantiene il cervello funzionante e ci aiuta ad avere quella diciamo riserva cognitiva che è molto importante con il tempo perché se ne abbiamo tanta la perdiamo in ogni caso col tempo ma però piano piano ne abbiamo sempre una certa quantità se ne abbiamo poca va via subito e quindi abbiamo problemi e poi voglio insistere su un altro punto poi mi fermo che è il sonno il sonno anche questo è concepito come una modalità giustamente per riposare i nostri muscoli il nostro scheletro che si muovono tutto il giorno o si dovrebbero muovere perché spesso siamo molto sedentari invece certamente si devono riposare quindi il sonno comporta questo ma il sonno ha una funzione molto più importante che dipende dal fatto che il nostro cervello è l'organo che lavora di più perché deve sovrintendere a tutti gli organi del nostro corpo e quindi se lavora di più ha un metabolismo più intenso degli altri organi e se ha un metabolismo fa anche tante scorie usando energia si fanno scorie e queste scorie sono tante per cui non si riesce a eliminarli durante la giornata nel sonno la eliminazione di queste scorie raddoppia e questo diciamo vi dice che il sonno è un fattore importante per il nostro cervello perché purifica dalle scorie che sarebbero dannose a lungo termine per questo ci dice che tutte queste buone abitudini di vita devono essere in qualche modo fatte tutti i giorni perché è tutti i giorni che abbiamo bisogno di questo ed è soltanto facendolo tutti i giorni che abbiamo poi il vantaggio man mano che andiamo avanti con il tempo l'invecchiamento avviene ma l'invecchiamento può avvenire in senso anagrafico nel senso che gli anni si vedono ma può avvenire anche in senso più biologico nel senso che si può invecchiare ma si può invecchiare mantenendo delle buone condizioni certo la prevenzione è molto difficile da realizzare ed è in conflitto di interessi con il grande mercato della medicina voi pensate che noi spendiamo 22 miliardi all'anno per acquistare farmaci che vengono dati gratuitamente a tutti noi se noi riuscissimo a diminuire le malattie perché lo ripetiamo le malattie sono evitabili sarebbe facile risparmiare un mucchio di soldi che useremo per fare tante altre cose che oggi non siamo in grado di fare quindi il mercato della medicina va controllato non ci sono mercati che vogliono diminuire tutti i mercati per loro natura devono aumentare la prevenzione è il maggior antidoto al mercato ed è anche molto importante perché prima di tutto fare prevenzione è una forma di sano egoismo perché i primi a beneficiarne siamo noi non è piacevole avere malattie e ci accorgiamo quanto è importante la salute quando abbiamo le malattie non solo ma danneggiamo i nostri familiari perché se noi siamo malati creiamo malessere anche ai nostri familiari lo diceva prima il professor Curcio il star bene è utile per tutta l'economia è per questo che è un investimento il servizio sanitario nazionale e poi star bene è anche un atto di solidarietà verso il servizio sanitario nazionale perché permettiamo a quelli che veramente hanno bisogno di avere terapie di averle nel modo migliore di non averli in stradeza di non avere tutto quello che abbiamo oggi quindi chi decide della mia salute sono io allora io partirei proprio partirei di nuovo da questo tema chi decide della mia salute c'è una tendenza relativamente recente che è quella di andare verso un'organizzazione del sistema sanitario che si chiama di coproduzione sono quei sistemi in cui si cerca di risolvere il problema che aveva sollevato prima il professor Boniolo e cioè della conoscenza della competenza del problema tecnico del problema sanitario il modello della coproduzione supera i modelli della medicina basata sull'intensità di cura supera tutta una serie di difficoltà che si sono create attraverso modelli più economicisti che non tecnici sanitari e torniamo però alle conoscenze alla competenza e al rapporto fra il sociale e la qualità della vita e la qualità della salute no Giovanni certo quello che ha detto il storio di Rattini è molto interessante permettetemi una battuta che è di Woody Allen il quale ha detto io non fumo più non mangio più mangio poco bevo poco vivo una settimana di più ma se in quella settimana piove è una sfortuna terribile nel senso che il tutto deve essere usato con grande moderazione due o tre aspetti la prevenzione è una cosa fondamentale è una cosa fondamentale perché molte delle patologie che noi abbiamo sono dovute a un errato stile di vita che significa anche a un errato posto dove noi abitiamo a un errato modo in cui mangiamo a un errato modo in cui viviamo sono stato poco tempo fa a un convegno che ho organizzato su sport e longevità e ha parlato un medico dello sport un cardiologo che ha fatto 14 tours de France e 14 giri d'Italia come medico sportivo e mi ha portato due slide di due diagrammi di due lavori uno che ha mostrato la sopravvivenza in percentuale di chi ha fatto il tour de France tra prima della guerra e dopo la guerra nel periodo 30-40 anni raffrontato alla popolazione francese ebbene chi ha fatto il tour de France ha vissuto il 20% in più ha portato poi un'altra slide mostrando coloro che sono stati medagliati alle olimpiadi ebbene coloro che sono stati medagliati alle olimpiadi hanno vissuto in media rispetto alla popolazione mondiale il 20% in più questo non significa che si deve fare lo sport esasperato come andare a fare il tour de France o il giro d'Italia o vincere una medaglia alle olimpiadi significa che l'attività fisica come è stata menzionata è una cosa fondamentale è una cosa fondamentale non soltanto per l'apparato cardiorespiratorio non soltanto da un punto di vista fisiologico per le funzioni cerebrali ma vi sono dei lavori molto belli come mostrano che il declino cognitivo dovuto all'età ad esempio nel caso mio c'è un declino cognitivo che sta andando avanti può essere rallentato ma non fermato facendo sport ma non tutti gli sport gli sport che hanno una componente tecnica perché se tu fai uno sport con una componente tecnica significa che ci devi pensare e cioè devi mettere in moto quelle facoltà cognitive che ti permettono poi di farlo di avere quell'abilità mentale ma anche fisica che ti permette di farlo e questo è importante è importante anche questo come si diceva prima a che fare con i determinanti epistemici della malattia se tu lo sai puoi farlo qui veniamo a un altro fattore nelle pacchette di sigarette ci sono queste immagini terribili di questi tumori polmoni bocca eccetera eccetera sono degli incentivi si chiamano dei nudge delle spintarelle gentili non tanto gentili per dire non farlo questo modo di fare una spinta per avere una prevenzione cioè per non fumare benché poi il fumo sia venduto sia venduto dal monopolio dello Stato gli Stati Uniti d'America in Italia ha due conseguenze totalmente diverse negli Stati Uniti d'America ci può essere anche l'avvertimento a non fumare perché fa male oppure mettere nel vino non bere troppo perché fa male qual è il problema? Che tu sei libero però io ti dico Stato io ti dico istituzione quello che ti fa male però se tu lo vuoi fare fallo ma in certi dici in America tu te lo paghi tu te lo paghi in Italia no l'istituzione ti dice ciò che fa male tu sei libero di fare ciò che ti fa male ma non lo paghi tu lo paga tutti perché abbiamo un sistema sanitario nazionale ce lo paga la collettività e questo qua ha che fare come diceva prima agganciandomi prima al problema della malattia il problema della malattia non è soltanto non c'è soltanto il costo diretto della malattia che è il costo legato al personale sanitario che viene usato per tentare di guarirti alle terapie che vengono usate alle metodologie diagnostiche molte volte estremamente costose per poterlo fare ma esistono i costi indiretti i costi indiretti sono quelli legati al fatto che mentre tu sei malato tu non lavori non è che questo qua sia una sorta di apologia al lavoro da non ammalarsi mai ma se tu vivi soprattutto in una città come quella di adesso in modo tale da ammalarti i costi ricadono non solo sul sistema sanitario ma ricadono sulla collettività tu non vai a lavorare se non vai a lavorare non sei produttivo ci deve essere qualcuno che lavora al posto tuo se tu sei in casa non fai certi lavori che potresti fare in casa e ti serve qualcuno che venga a farlo cioè la malattia non ha soltanto dei costi diretti ha anche dei costi indiretti dei costi indiretti che paga tutta quanta la società noi viviamo molto di più di quanto si viveva prima però sono aumentati gli anziani aumentando gli anziani aumentano le patologie croniche aumentano i costi del vivere in un certo è una cosa molto bella ma bisogna anche pensare non soltanto a vivere a lungo bisogna avere anche una qualità della vita che ti permetta tale di goderti il fatto che tu vivi a lungo noi adesso abbiamo da un punto di vista farmacologico tu puoi vivere quasi per sempre il grosso problema è fino a che punto ha senso utilizzare se uno va a vedere il costo dei farmaci in ambito oncologico va esponenziale verso il fine vita va verso il fine vita perché ci sono motivi diversi i parenti molte volte vogliono tentiamo tutto e molte volte c'è anche il problema della medicina difensivistica e cioè tento tutto perché quindi gli aspetti della patologia non sono soltanto gli aspetti legati a io malato che vado in ospedale ma vi è veramente una complessità socio-economica e anche culturale che è varia ma poi voglio arrivare a un altro punto che è stato menzionato al quale ci tengo moltissimo l'ospedalizzazione di adesso è un'ospedalizzazione di tipo aziendale e cioè qualunque specialista ha un tempo per ogni malato in funzione della patologia che lui ha ma il problema è che tu e la medicina dovrebbe essere adesso si parla di medicina personalizzata dimenticando che la medicina sempre è stata personalizzata e cioè diretta alla persona e che lo scopo della medicina non è guarire lo scopo della medicina è curare e il tempo della guarigione attraverso l'intervento farmacologico attraverso l'intervento chirurgico è diverso dal tempo della cura il tempo della cura è un tempo totalmente diverso è un tempo che viene giocato nella relazione tra il medico e il paziente parlavo con un collega della Columbia di University lui è un ematologo e lui mi diceva il nostro è un problema molto semplice mi arriva la paziente gli dico la patologia che lei ha gli dico anche signora lei ha la terapia A la terapia B la terapia C c'è l'empowerment del paziente c'è la totale autonomia del paziente esca ritorni dopo cinque minuti e mi dica se è A B o C questo è un modo aberrante di pensare l'autonomia del paziente dove il paziente decide sì sono io che decido ma decido che cosa decido che cosa se non so non so non so che cosa sia la terapia A non so che cosa sia la terapia B non so che cosa sia la terapia C ma soprattutto io non ho soltanto il problema che voglio la terapia A la terapia B e la terapia C io voglio essere curato curato nella mia nella mia totalità io ho una fede o io non ho una fede io vivo certe tradizioni culturali e non altre provate a pensare sono stato a Monaco per un paio di anni nella clinica della Technischen Universität e lì mi raccontava la ginecologa che loro hanno avuto un problema enorme il problema enorme era la sala d'attesa della sala parto prima nella sala d'attesa della sala parto c'era il marito della parto oriente che entrava e al massimo una persona adesso con situazioni culturali e tradizioni diverse come giustamente che sia tu hai la sala parto che hai nella sala antistante la sala parto che hai 35 persone perché per tradizione culturale 35 vengono ad assistere e quella persona non ha il diritto di essere curata secondo anche il suo modo di vivere di vivere la patologia viviamo in una situazione multiculturale e questo ha cambiato cambia drasticamente anche l'approccio di cure non l'approccio alla guarigione l'approccio di cura l'approccio dell'attenzione nei confronti del paziente perché io paziente ebreo devo mangiare non kosher quando la mia religione mi dice che io devo mangiare kosher perché io paziente islamico che non voglio e ho un problema urologico e non voglio essere toccato da una donna devo essere toccato da una donna che è urologa se non c'è nessun uomo urologo è un problema ma sono situazioni complesse sono situazioni complesse quando si si affronta il problema della cura della cura della persona nella sua nella sua totalità è un tempo diverso da quello dell'ospedalizzazione allora molte volte io mi chiedo e non riesco a darmi una risposta noi abbiamo avuto dei ministri della sanità che erano medici che hanno vissuto in corsia che hanno avuto responsabilità di organizzazione ma come possono non avere pensato a una ristrutturazione del sistema sanitario che metta a posto la medicina specialistica con la medicina del territorio che non vada a tener conto che l'Italia è un paese meraviglioso perché c'è un sistema sanitario meraviglioso però che ha macchie di leopardo dipende da dove tu vai è come la scuola la scuola è dell'obbligo ma dipende da chi saranno i maestri i professori dei tuoi figli è la stessa cosa dell'università dipende da che docente trovi il valore legale del titolo studio è uguale ma non è uguale la formazione e questo è un problema di organizzazione da un lato e dall'altra parte come sempre è un problema di conoscenza da parte dell'utente che può essere il genitore che manda il figlio a scuola lo studente che va in università ne sceglie una invece che un'altra il paziente che va a prendersi la cura e l'attenzione nei confronti di un ospedale e non nei confronti dell'altro è possibile che abbiamo 20 sistemi sanitario diversi è possibile che ad esempio i farmaci che tu puoi avere in una data usl non sono esattamente i farmaci che puoi avere in un'altra usl perché è cambiato la lista dei farmaci che danno non esiste soltanto un turismo culturale esiste un turismo sanitario ma come mi può dire il professor Garattini esiste anche un turismo farmacologico e tutto quanto questo va a incidere che cosa va a incidere sulla cura ma ripeto non va a incidere sulla cura di coloro che sanno e di coloro che sono ricchi va a incidere sulla cura di coloro che sono i più fragili di coloro che non sanno di coloro che si accontentano di avere dei terribili dottor House i quali badano soltanto alla patologia se sono fortunati di avere le competenze del dottor House televisivo altrimenti nemmeno ma che trovano una situazione di maleducazione che trovano una situazione di non rispetto che trovano una situazione in cui la propria privacy viene violata questo non è sempre così ma esistono dei casi e anche questo è un grossissimo problema allora chi decide sulla mia salute beh da un lato dovrei essere io perché ho l'autonomia di scegliere però non può essere quell'autonomia di cui si parlava dieci anni fa e che si parlava che avevo esemplificato come l'amico della Columbia University dell'oncoematologo il quale ti dà la responsabilità della scelta totale ma un'autonomia di tipo diverso un'autonomia di tipo relazionale nel senso che io non vivo da solo io vivo con una famiglia io vivo con degli amici io vivo con dei e molto probabilmente la scelta della mia cura che non è la scelta della mia terapia e basta è una scelta diversa è una scelta che comporta l'aspetto esistenziale che comporta l'aspetto psicologico provate a pensare quando lavoravo all'OIEO al sud europeo di oncologia arriva una signora che aveva una patologia aveva una mutazione di un gene che è il TP53 il TP53 è un oncosoppressore quando tu hai la mutazione che si chiama la sindrome di difraumeni tu hai possibilità di avere patologie oncologiche un po' dappertutto si riscontra che è familiare lei ha due figlie una di 5 e una di 7 anni chiede che le figlie di 5 e 7 anni vengano testate per la mutazione del P53 le linee guida internazionali dicono di non farlo lei dice io sono la madre io sono la madre che cosa si fa? è un problema terapeutico è un problema clinico è un problema esistenziale non è un problema di guarigione perché tanto non guarisci è un problema di cura come l'affronti quella particolare signora? come le parli? quale scelta farà nei confronti delle figlie? le testa? non le testa? a che età le testa? glielo dice non glielo dice poi l'esito se l'esito è positivo? questi sono problemi che si incontrano quotidianamente nella medicina in corsia che chiunque incontra chiunque clinico e sono problemi non sono problemi di guarigione sono problemi di cura sono problemi che necessitano di tempo che necessitano di capire perché quella mamma voleva fare il test alle bimbe perché vuoi fare il test alle bimbe? andiamo a vedere se hai effettivamente il diritto di andare a fare quel test alle bimbe o se è un tuo dovere farlo questi qua sono problemi che molte volte non vengono nemmeno affrontati durante i corsi di laurea di medicina perché si bada all'aspetto tecnico però il malato non è una malattia il malato è un uomo il malato è una donna il malato è una bimba il malato è una mamma il malato è un papà il malato è un nonno e soprattutto con la medicina di adesso che è una medicina a base molecolare dove sappiamo molto di più ma sappiamo molto di più non solo su quel singolo paziente ma su tutto quanto il suo lignaggio e le scelte che vengono fatte su quel paziente molte volte si ripercuotono anche sul lignaggio quindi non è soltanto un problema di terapia un problema di diagnosi ma è un problema di cura io devo prendermi cura di queste persone e chi si prende cura di queste persone il medico il medico è formato a farlo e questo è un altro problema quindi chi decide sulla mia salute viviamo ancora una forma di medicina paternalistica o finto paternalistica chi decide sulla mia salute mi viene dato da firmare il consenso informato ne ho firmati a centinaia nella mia vita come tutti quanti noi ma quando un consenso informato è veramente informato quanto tempo mi dedica l'anestesista che mi fa firmare un consenso informato per l'anestesia preoperatoria quanto tempo ci impiega allora secondo i dettami il consenso informato dovrebbe essere l'erogazione al paziente dell'informazione completa sull'atto clinico non solo il consenso informato dovrebbe essere l'informazione completa ma anche la valutazione della comprensione da parte del paziente se ha capito l'informazione e quando mai questo avviene quando mai mi chiedono ma hai capito quello che hai letto e quello che vai a firmare provate a pensare per operazioni molto semplici ma esistono delle situazioni in cui il consenso informato non può valere provate a pensare quelle che si chiamano le biobanche di ricerca quando io ho una neoplasia mi operano e una parte viene messa in una banca e quel pezzettino del mio corpo cioè può essere utilizzato fra dieci anni da ricercatori totalmente diversi può essere che consenso informato io posso dare sull'uso del mio spessime fra dieci anni provate a pensare il grosso problema che c'è stata di questa donna afroamericana che si chiamava la LAC donna di colore tumore alla cervice hanno preso delle sue cellule e poi sono le cellule che si usa quasi sempre in laboratorio le cellule ILA che consenso informato può avere dato quanti gli usi delle cellule ILA che poteva avere anche in questo caso bisogna cambiare la mentalità bisogna conoscere il grosso problema del il tema dell'utilizzo delle banche dei campioni biologici è altrettanto vero che ha salvato moltissime vite ma ha salvato un'enorme quantità di vite quel tema lì è un tema che richiede moltissima attenzione e sicuramente è uno di quegli aspetti della componente sociale anche della necessità io vorrei però lasciare perché stiamo facendo è un tema interessantissimo sono sicuro che ci sarà almeno qualche domanda io vorrei lasciarvi un attimo la possibilità anche di rispondere magari a qualche domanda perché sono sicuro che le persone presenti sono molto interessate prego c'è un microfono credo ci sia un microfono chiedo sì io sono un medico ho lavorato 40 anni in un ospedale pubblico e ho apprezzato moltissimo la relazione del professor Garattini che ha veramente messo a fuoco con la situazione italiana alla domanda chi decide della mia salute io direi che c'è qualcuno che deve decidere prima di noi medici di noi sanitari e sono gli insegnanti la scuola perché io continuo a lavorare come libero professionista e ricercatore e posso dire che vedo bambini sempre più obesi grassi inattivi e c'è poca informazione sul fatto che bisogna curare tutti sì ma non concordo con il professor Bognolo perché si può curare e lo dico sempre ai miei pazienti sono chirurgo ho fatto anche 20.000 interventi come oculista però non si può guarire tutti e questo deve essere una presa di coscienza chi decide la mia salute e la scuola è fondamentale perché abbiamo un abbassamento veramente tragico della cultura nelle scuole io vengo da una città che si chiama Monfalcone che ha il 30% di immigrazione proveniente da un paese retrogrado il Bangladesh abbiamo delle classi dove su 30 bambini 24 25 ma sono ottimista sono bengalesi perché purtroppo la natalità italiana è molto bassa e comunque i bambini italiani vengono convogliati poi in altre scuole private eccetera quindi l'abbassamento della cultura è un fenomeno molto grave che inciderà tantissimo anche sulla salute moltissimo e questo è fondamentale pur essendo stata sempre un medico finisco un medico pubblico io non sono contro la sanità convenzionata privata perché devo dire la verità che ci ha aiutato moltissimo nel periodo del covid e nel post covid proprio a togliere diciamo le malattie gli interventi chirurgici nel mio caso per esempio le cataratte o gli altri interventi minori e anche le visite di livello medio diciamo e credo che queste cose andrebbero proprio convogliate verso questa sanità un'altra cosa non possiamo dare la sanità a tutti secondo me la sanità universale non è possibile noi abbiamo dei lavoratori a Monfalcone che devono essere tutelati al 110% visto che questo è un percentuale che va molto di moda adesso però queste persone che hanno due mogli e otto figli il nostro sistema sanitario non lo può sostenere queste persone devono avere una assicurazione altrimenti tra poco i pronto soccorsi sì ci saranno ma non erogueranno più assolutamente le prestazioni ringrazio il professor Garattini signore non ho mai detto mai detto che si deve guarire sempre e che si cura sempre ho detto che si dovrebbe avere cura sempre che è una cosa totalmente diversa e mi permetta di dissentire con lei anche se hanno otto mogli e 97 figli siccome sono esseri umani io mi prendo cura di loro aggiungo soltanto che il il modello dove c'è la massima espressione del passaggio alla medicina privata e alla medicina pagata dalle assicurazioni è il modello degli Stati Uniti come abbiamo detto prima è il peggior sistema sanitario del mondo occidentale sia in termini di costi che in termini di outcome per cui c'era il professor Garattini che voleva rispondere un attimo io penso che una cosa molto importante che lei ha detto riguarda la scuola cioè noi abbiamo bisogno per riportare la prevenzione al suo livello importante di una grande rivoluzione culturale cioè deve cambiare la nostra cultura e la cultura non cambia senza la scuola quindi la scuola è fondamentale noi dovremmo cominciare ad avere per esempio un istituto superiore di sanità una scuola superiore di sanità che formi i dirigenti sanitari perché non tutti i dirigenti sanitari sono formati alla medicina che vogliamo cercare di avere sappiamo tutti dipende molto dalle regioni ma che ci sono molte influenze di tipo politico che non ci dovrebbero essere perché noi dobbiamo formare dei dirigenti che capiscano molto bene quali sono le funzioni importanti nell'ambito del servizio sanitario nazionale ma poi dobbiamo far conoscere il servizio sanitario nazionale far conoscere la prevenzione nelle scuole dobbiamo formare ci sono già ci sono già delle eccezioni ma dobbiamo formare degli insegnanti che abbiano questa caratteristica funzione basta un'ora alla settimana parlando di salute per cambiare completamente la cultura ci vorrà del tempo ma se cominciamo dall'elementari riusciamo ad avere una maggiore cultura della salute che si traduce poi in un miglioramento delle conoscenze ma anche in una diminuzione delle spese perché quanto più siamo coscienti della prevenzione tanto meno spendiamo per la salute quindi questo diciamo è un altro aspetto molto importante la scolarità è un fattore di rischio perché quelli più determinanti epistemici della malattia è un fattore di rischio molto importante noi sappiamo che le persone con bassa scolarità hanno più diabete hanno più sono più fumatori sono molto di più i fumatori del basso livello scolastico che non dell'alto livello scolastico sono più obesi mangiano peggio anche perché non hanno conoscenza di quale sia la corretta alimentazione quindi la scuola è molto importante io credo che bisogna richiamare l'attenzione del nostro ministero della pubblica istruzione sulla necessità che ci sia una cultura della salute e che ci sia maggiore scienza presente nella scuola perché la nostra scuola manca della scienza è vero che ci sono tutte le discipline la biologia la chimica ma questa è la conoscenza di quello che già sappiamo ma quando parlo ai liceali dico sempre se vuoi sapere che qualcosa se qualcosa fa bene o fa male non lo puoi chiedere al greco non lo puoi chiedere alla filosofia non lo puoi chiedere all'arte lo devi chiedere alla scienza perché è solo la scienza che ha la metodologia per rispondere a una domanda del genere se noi riuscissimo a inserire nella scuola queste conoscenze cambierebbe molto la salute di un paese quindi io sostengo molto quello che lei ha detto sulla necessità della scuola dobbiamo lavorare insieme perché anche il mondo scolastico faccia pressione perché migliorino le conoscenze sulla salute il problema della scuola è un altro problema enorme in Italia vi è da dire però che non è completamente vero che all'interno della scuola superiore d'Italia le materie scientifiche non vengono insegnate c'è molta fisica c'è molta matematica c'è molta biologia c'è molta astronomia c'è molta geologia il problema non è l'informazione che ricevono il grosso problema è la mancanza che c'è nella nostra scuola per una tradizione che abbiamo del ragionare in maniera corretta allora io posso ragionare in maniera corretta all'interno della filosofia all'interno del greco all'interno del latino e all'interno della matematica il problema della mancanza epistemica della fragilità epistemica non sta soltanto nell'informazione scientifica che non ho ma anche nel ragionare corretto che io non ho molte volte noi guardiamo in televisione e vediamo che le persone ragionano in maniera scorretta fanno degli argomenti che non hanno senso partono dalle premesse false arrivano a qualunque conclusione e questo è un enorme altro problema possiamo dire che in gran parte quello che manca è insegnare il metodo scientifico esatto e cioè quello che dicevo cioè il metodo scientifico è quello che dobbiamo imparare c'è un'altra domanda da parte sì prego io sono un insegnante di una scuola superiore scusate sono un insegnante di una scuola superiore e ho prestato servizio in scuole sanitarie e quindi ho gioito moltissimo non sapendo che l'intervento che mi ha preceduto ha tirato fuori l'argomento scolastico e anche il professor Garattini naturalmente e attualmente insegno in una grande scuola qui in città e non manco di cercare di fornire pillole di prevenzione di salute anche per la mia formazione detto questo volevo porgere se possibile una domanda a entrambi i relatori a lei professor Boniolo le chiedo questo la questione dei determinanti è molto molto interessante sia sociale che epistemici quindi io mi chiedo se è una alfabetizzazione se così possiamo dire sanitaria oltre a quella informatica alimentare o finanziaria che tanto si aspica può essere diciamo utile nel restringimento del gap del divario riconoscitivo di cui le parlava prima e che magari può aiutare anche questo nuovo modello della coproduzione che sembra nascere e a lei professor Garattini posto che il servizio sanitario non può essere di prossimità come la farmacia o la posta tanto per dire quindi c'è da un lato l'esigenza di razionalizzare e questo l'abbiamo capito tutti però naturalmente il sistema sanitario si muove secondo me su due binari quello di assicurare saluti a tutti indipendentemente da possibilmente vicino a casa e con la più alta efficacia possibile ma dall'altro lato potenziare gli ospedali sui attrezzati come gli ospedali riuniti a Bergamo o il Gemelli a Roma o il Cardellale a Napoli eccetera eccetera e allora io vorrei avere la sua opinione sulle ultime frontiere dalla sua esperienza di farmacologo oncologo mi riferisco alla nanomedicina alla medicina di precisione o personalizzato di genere che è stata appena menzionata se possibile grazie comincio io vado il diminuire il gap conoscitivo non è banalissimo il servirebbero del dei governanti che come si mettono a riformare in maniera corretta la sanità dovrebbero riformare in maniera corretta anche l'istruzione o meglio l'educazione il tema dell'educazione è un tema che ha attraversato i secoli proprio per tentare di diminuire il gap tra coloro che sanno e coloro che non sanno visto che non abbiamo una situazione in cui dei governanti si preoccupano di diminuire il gap conoscitivo anche perché molte volte vivono nel dark side del knowledge divide non sanno e avere dei governanti che non sanno è un grosso problema quando vanno a legiferare tanto è vero che affrontato a livello europeo da quello che si chiama Joint Research Center il Joint Research Center è una commissione della comunità europea al servizio dei parlamentari della comunità europea per legiferare bene e al servizio dei parlamenti dei paesi della comunità europea non viene quasi mai usato nel senso che viene totalmente negletto non solo il parlamento inglese da poco prima della guerra dal 36 al 37 al suo interno ha un gruppo di consiglieri tecnici tecnico-scientifici i quali vanno a supportare a informare i parlamentari quando i parlamentari vanno a legiferare intorno a materie tecniche cioè materie di cui non sanno certi paesi europei hanno istituito all'interno dei parlamenti questi gruppi di consulenza chiamiamola scientifica non sono gruppi che vengono nominati politicamente ma sono gruppi che vengono scelti nella best knowledge a livello internazionale di quel paese 14 paesi europei ce l'hanno l'Italia no si decide se ne parla da 10 anni il parlamento europeo il parlamento italiano non ha mai sentito la necessità di avere dei consulenti col best knowledge a livello internazionale per poter andare a legiferare tutte quante le volte che sono state fatte delle scelte che hanno avuto a che fare con la fisica la centrale nucleare con le biobanche per uso forense con il divorzio cellule staminali eccetera sono stati sempre di nomina politica dal governo che c'era se il governo che c'era di sinistra la maggior parte era di sinistra se il governo che c'era di destra la maggior parte era di destra il che non funziona perché la best knowledge a livello internazionale non è di di destra né di sinistra allora nel momento nel frattempo in cui noi aspettiamo che i governi siano talmente peggio che alla fine te ne arriva uno per sbaglio che è buono e che faccia queste riforme l'unica cosa è responsabilità nostra chi decide la mia salute io se io conosco la responsabilità è mia la scelta della prevenzione la scelta dell'ospedale è mia la scelta di dove mandare i miei figli a scuola è mia la scelta di dove indirizzarli all'università è mia ma per far questo e accade in tutti quanti i padri io devo conoscere cioè devo fare l'unica cosa necessaria per poter conoscere studiare chi non studia tutta quanta la sua vita è un uomo o una donna le cui scelte sono necessariamente scelte cattive perché non ha la conoscenza sufficiente per poter scegliere la via migliore e l'unica cosa è studiare che tu abbia 15 che tu abbia 25 che te ne abbia 67 come me o che te ne abbia 96 come mia suocera studiare il tema è complesso però perché prima di dare la parola al professor Garattini un attimo il tema però è molto complesso perché anche qual è la fonte di informazione e non ci dimentichiamo che oggi probabilmente adesso non ho i numeri esatti ma la fonte di informazione principale soprattutto nell'età più giovanili e torniamo al problema della scuola perché ancora una volta quello dell'istruzione è un problema molto rilevante molto sentito il tema è i social network gli influencer il problema è dove l'informazione viene presa e purtroppo molto spesso l'informazione viene presa da dottor Google o da dottor Amazon che aprirebbe io non voglio scoperchiare questo tema perché ci vorrebbe altre cinque di questi dibattiti perché purtroppo il tema sta diventando veramente rilevante sta diventando rilevante perché quei signori di cui stiamo parlando sono in grado di sviluppare algoritmi di intelligenza artificiale con la possibilità addirittura di ragionare in termini di dati sintetici e hanno a disposizione i dati ci sono interi sistemi sanitari anche sistemi sanitari regionali italiani che hanno dato i dati sanitari a Google quindi è un tema enormemente complesso nel quale non voglio entrare ma volevo soltanto contrapporre l'esigenza di una scuola che funzioni perché è anche l'unica salvaguardia nei confronti della cattiva informazione che diventa un elemento molto critico nello sviluppo per dopo della malattia l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha identificato il livello di istruzione e l'istruzione corretta come uno dei principali determinanti dello stato di salute e di malattia prego al professor Garattini invece la risposta intanto complimenti per il suo impegno nell'occuparsi dei problemi della salute e magari ce ne fossero tanti purtroppo siete troppo pochi quelli che si occupano se guardiamo diciamo a una visione italiana se ho capito bene la sua domanda è fare qualche commento sui problemi con cui viene adesso presentata la medicina personalizzata medicina di precisione eccetera io penso che questi sono degli obiettivi per farvi vedere quanto siamo lontani da questi obiettivi vi dico due esempi prendiamo una delle tante persone anziane quanti farmaci prende al giorno credo che molti di voi sappiano se delle persone anziane che 10-15 farmaci al giorno sono la regola sono queste persone anziane che devono al mattino cominciano con una pillola rossa poi dopo un'ora prendono metà di quella bianca poi dopo devono ricordarsi che c'è la verde e che ce n'è un'altra eccetera eccetera ecco questa non è certamente medicina di precisione questa è cattiva medicina che è molto diffusa chi mai ha dimostrato che prendere 15 farmaci è meglio che prenderne 10 chi mai ha dimostrato che prenderne 10 è meglio di prenderne 5 io sfido chiunque a trovare un solo lavoro scientifico che faccia vedere perché perché siamo lontani dalla medicina di precisione abbiamo una medicina che è influenzata dal mercato e quello che fa il medico prescrive 15 farmaci dipende dal fatto che non ha nessuna informazione indipendente e ha soltanto l'informazione che viene fornita da chi vende vi faccio un altro esempio le donne sono metà del mondo le donne sono penalizzate dalla medicina perché i farmaci che ricevono le dosi che ricevono i tempi sono tutti studiati nei maschi quindi le donne non partecipano agli studi clinici controllati ma anche se partecipassero non servirebbe perché le malattie la stessa malattia è differente nel maschio e nella femmina non può essere messa insieme noi dovremmo avere due protocolli uno per il maschio e uno per la femmina perché si convincia dagli studi sugli animali a usare solo maschi e poi andiamo avanti per tutta la trafila prima di arrivare questo è un altro problema cioè parlare di medicina di precisione quando abbiamo ancora metà del mondo che è trattata ingiustamente penalizzata dalla medicina credo che ci debba far fare delle riflessioni e poi la medicina di precisione va anche vista considerando tutto quello che è disponibile e che viene utilizzato senza che ci sia nessuna evidenza scientifica spendiamo 5 miliardi di euro per comprare integratori alimentari che fanno certamente bene a chi li vende ma non c'è nessuna evidenza che faccia qualcosa a chi li compra quindi io credo che dobbiamo e per questo che è necessaria la cultura nella scuola è necessario conoscere la metodologia scientifica perché se si conoscesse la metodologia scientifica nessuno comprerebbe molte delle cose che troviamo correntemente in farmacia perché non c'è nessuna evidenza che possano servire a qualcosa se matura questo abbiamo certamente un notevole miglioramento e allora possiamo pensare anche a essere più precisi e più aderenti alle necessità delle persone certe volte gli integratori alimentari ci creano problemi anche in laboratorio perché quando si è cominciato a usare la biotina come integratore alimentare in tantissimi cibi e in tantissimi alimenti nel laboratorio si è creato un problema enorme perché la biotina assunta spesso senza nemmeno saperlo interferisce con molti dei dosaggi di laboratorio quindi a un certo punto siamo diventati matti perché abbiamo cominciato a trovare risultati incomprensibili in tantissime persone e poi è venuto fuori che era il problema della biotina è come l'uso della vitamina D che è diffusissimo ma non c'è bisogno della vitamina D basta un po' di sole per avere tutta la vitamina D di cui abbiamo bisogno basta mangiare un tuorlo d'uovo per avere la vitamina D di cui abbiamo necessità quindi non fatevi più prescrivere come esame di laboratorio il dosaggio è la vitamina D per piacere ne facciamo ormai 500 al giorno di questi 500 al giorno 499 non serve a niente per cortesia non fatevela più prescrivere come esame di laboratorio ve lo dico da direttore del dipartimento di medicina di laboratorio basta perché non serve a nulla ad usarla bene se non ci sono altre domande siamo andati abbastanza oltre il tempo che ci era stato dato ma credo che sia stato così interessante che in pochi si sono accorti che abbiamo sforato il tempo che avevamo a disposizione io ringrazio il professor Boniolo e il professor Garattini spero che abbiate in qualche modo sia stato utile avere questo scambio abbiamo raccontato di aspetti che hanno a che fare proprio con le necessità quotidiane delle persone abbiamo volutamente evitato di entrare in dettagli e in aspetti troppo tecnici perché non ci sembrava il caso di cominciare a parlare di cose come omiche piuttosto che cose insomma piuttosto ancora complesse per noi e quindi le abbiamo volutamente lasciate da parte ma credo che siamo riusciti a dare una comunicazione siamo riusciti a creare un filo fra la scienza e io mi tolgo naturalmente mi riferisco soprattutto al professor Garattini e al professor Boniolo e quanti di lui erano interessati al problema ringrazio tutti per essere stati qui con noi fino a quest'ora e vi auguro buonanotte grazie 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 grazie